Cento ore di magia in streaming, parte giovedì notte la maratona del Master of Magic World Tour che causa Covid non si svolgerà dal vivo, dal Piemonte però collegamenti con tutte le capitali del mondo e maghi di fama internazionale. Noemi Romeo. Sarà la maratona di magia più lunga mai vista, cinque giorni di diretta streaming da Torino con collegamenti con tutte le capitali del mondo, spettacoli, workshop, conferenze, show interattivi, cento ore di magia senza interruzioni con maghi di fama internazionale. Master of Magic World Tour si adegua alle norme anti-Covid dell'ultimo DPCM del governo e a proda online. Cento ore di dirette ininterrotte sul sito www.mastersofmagic.tv da ogni parte del pianeta, da Las Vegas, da New York, dalla Corea, dall'Australia per imparare a scoprire ed emozionarci con le magie di tutto il mondo. L'anno scorso, secondo l'indagine della Camera di Commercio di Torino, Masters of Magic aveva generato 2 milioni di euro di valore aggiunto per il territorio tra indotto alberghi, trasporti e negozi e persone coinvolte nella realizzazione. Quest'anno ci aspettiamo che resti vivo il ricordo di Torino in questa fascia di pubblico, al pubblico che è interessato ai maghi, che si ricordino di noi e che tornino nel 2021 dal vivo. Hashtag dell'edizione 2020 è Magic Never Stop, la magia non si ferma. Il Covid diventa anche una sfida per inviare un messaggio di solidarietà. Insieme al tour partirà una raccolta fondi destinata a sostenere giovani maghi colpiti dalla crisi causata dalla pandemia. Delle borse di studio da dare ai giovani maghi che non potendo lavorare non possono studiare magie e quindi non possono creare nuovi prestigi. L'appuntamento con il meglio della magia internazionale da giovedì 22 a lunedì 26 ottobre sul canale web Masters of Magic TV. Si potrà seguire da PC, tablet o telefonino in modo del tutto gratuito.